La produzione prosegue con un leggero incremento rispetto al 2023 presso la FIMER di Terra Nuova Bracciolini. Una produzione che è però in attesa della svolta, tanto sognata che da anni tra ammortizzatori sociali, tribunali e promesse si fa desiderare. Entro l'estate sarebbe prevista l'asta per la vendita, ma al momento non c'è una data. Manca infatti il bando di gara che in molti però pensano possa uscire entro la fine di luglio. Top Secret, i nomi che saranno presenti il giorno della vendita, si immagina ci possa essere Grable McLaren, inizialmente acquirente di FIMER, poi tornata una delle pretendenti a seguito dell'intervento del tribunale che ha commissariato l'azienda produttrice di inverter. Un'asta che, possiamo solo ipotizzare, dovrebbe vedere più di un aspirante acquirente, ma come detto tutto è celato. La verità si saprà solo il giorno dell'asta che si ipotizza possa essere svolta entro fine settembre, al massimo inizio ottobre. Anche perché c'è una data da rispettare ed è quella comunicata dal Ministero delle imprese del Made in Italy a gennaio scorso, durante un incontro con tutti gli attori in causa, fra cui i sindacati, e cioè entro fine anno dovrà uscire non solo il nome dell'acquirente, ma ci dovrà essere anche la rinascita dell'azienda. La speranza è che questa data sia rispettata. In primis per i lavoratori, oltre 200 quelli ancora al lavoro. nonostante tutto, a Terra Nuova Bracciolini.